Mancano poco più di due mesi a Natale, eppure non ci sono ancora idee, proposte o disposizioni chiare in merito alle iniziative che i commercianti dovranno adottare. Sconcertate le associazioni di categoria, ma il sindaco Brugnaro rassicura. Ci saranno i mercatini, non saranno probabilmente in piazza Ferretto, ma la cosa non è ancora chiusa, dobbiamo parlare con le associazioni di commercianti. Noi abbiamo un'idea di tenere proprio la piazza specificatamente come salotto buono di Mestre e di allargare tutta la città. Ma su questo siamo molto aperti e disponibili, stiamo facendo un sacco di valutazioni con tutti. Nessuna presa di posizione definitiva dunque, ma la voglia di rendere questo Natale speciale per Mestre e dintorni. Per Brugnaro dovrà essere un Natale ad alto livello e soprattutto all'insegna della tradizione. Secondo noi sarà un Natale diffuso, noi pensiamo a dei percorsi che arrivino fino a Marghera, attraversando la stazione di Mestre, tra via Piavi e Carducci, Corso del Popolo, da una parte. Dall'altra riuscire ad aprire dietro la piazza, tutta la parte di via Palazzo. Dall'altra parte ancora dove c'è la piscina del via Olimpia, insieme al Coni, girare anche dalla parte. Cioè che la gente abbia dei circuiti e possa girare. Cioè la nostra idea è che anche a Favaro, a Zellarino, a Chirignago ci saranno dei luoghi centrali dove ci sarà la Fenice che farà concertini, ci saranno i Babbo Natali. Vogliamo fare un Natale caratteristico tradizionale con la musica e con gli artisti di strada, con le castagne, con il vin brulè. E poi se ci sono anche i mercatini, magari su casette di legno, eccetera, ben venga. Poi vediamo dove metterli, in che modo. In particolare il tradizionale mercatino verrà confermato, ma dovrà offrire prodotti di alta qualità, dislocati in maniera tale da escludere la concorrenza con la proposta commerciale cittadina. e in contesti assolutamente adeguati così da diventare attrattivo anche per chi proviene da fuori. Non resta che attendere l'esito dell'incontro con le associazioni di categoria.